Comincia quest'oggi la partecipazione di Regione Puglia a Expo 2015. Con il taglio del nastro alla presenza di Giovanni Liviano, assessore regionale al turismo e Leonardo Di Gioia, assessore all'agricoltura, prenderà il via una sette giorni che si concluderà il 27 agosto nello spazio 2 del Cardo Nord-Ovest. Una settimana ricca di appuntamenti in cui i protagonisti saranno il sapere e il fare della Puglia, raccontati tramite un percorso particolare, quello della luce del paesaggio rurale pugliese, catturata in uno spazio emozionale, curato dal regista Alessandro Piva, ma anche quella delle luminarie e delle feste patronali interpretate in chiave contemporanea dall'artista Franco Dell'Erba. Senza dimenticare la presenza dei sapori di Puglia al padiglione del vino, dove rosati, rossi e bianchi pugliesi daranno il meglio di sé. Il Foriexpo proporrà invece le eccellenze no gastronomiche regionali presso l'ex hotel di Urnoco Bianchi di Piazza del Duomo. Oggi, dopo l'inaugurazione, gli assessori Liviano e Di Gioia effettueranno una visita alla camera sensoriale posta all'interno della struttura, per poi passare agli ori di Taranto, arrivati dal Museo Marta. Quindi sarà la volta del padiglione del vino, con le produzioni pugliesi in evidenza e visita finale ai grifuni di Ascoli Satriano, posti all'ingresso di Palazzo Italia.